buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è sabato 26 agosto 2023 una giornata calda una giornata da weekend quindi da trascorrere in vacanza per chi se lo può permettere e noi poi ci collegheremo anche su una bella spiaggia per godere dello spettacolo del mare l'alba esorta da poco e vediamo subito l'almanacco del giorno vediamo chi si festeggia oggi oggi si festeggia a sant'alessandro di bergamo eccolo qui nella grafica lo vediamo a cavallo vestito da guerriero in realtà sant'alessandro era un soldato della legione tebana una legione che era stata così realizzata con una forza militare prelevata dall'antico egitto nei pressi di tebe ed era combatteva però per l'imperatore massimino il quale aveva intrapreso una campagna contro i valleggiani riottosi della regione svizzera prima di combattere come solitamente si faceva con le regioni si sacrificava agli dei ma la legione tebana si rifiutò perché tra loro c'erano molti molti cristiani e allora l'imperatore con i suoi graduati cominciò a punire questi soldati e allora si avviò la decimazione cioè veniva mandato a morte un soldato su dieci ebbene i soldati della regione tebana in cui c'era anche sant'alessandro caddero ad uno ad uno prima una decimazione poi un'altra poi un'altra ancora finché tutti morirono tutti meno alessandro perché in quel momento si trovava da un'altra parte ma in realtà poi alessandro morì ugualmente martirizzato perché continuò la sua propaganda verso la fede cristiana e fu onorato in modo particolare a bergamo dove è il titolare del duomo della cattedrale e dove è diventato il patrono della città sant'alessandro di bergamo ed ora passiamo alle previsioni del tempo siamo nel weekend vediamo il sole splendere su tutta la regione tempo stabile e solleggiato ovunque caldo molto intenso con picchi fino a 35 addirittura in alcune località si potranno raggiungere i 40 gradi soprattutto in pianura nelle zone prealpine la temperatura sarà leggermente più umide i venti sulle coste da sud est nell'entroterra da est il mare il mare è calmo e ovviamente chiediamo conferma a paolo donati dei bagni beach club di senigallia buongiorno buongiorno paolo buongiorno buongiorno a voi a tutti i telespettatori benissimo ci senti bene il mare si il mare il mare com'è il mare stamattina mare calmo come i giorni scorsi condizioni meteo perfette ci puoi fare una panoramica della spiaggia oltre il mare vedere anche un po ecco piano 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 questo vediamo vediamo gli ombrelloni un po aperti un po chiusi si sta cominciando l'attività si si tra un po cominceranno ad arrivare i clienti insomma stiamo cominciando a preparare il tutto per il weekend ecco un weekend ovviamente dove si incentivano le presenze come vanno le presenze in questo fine mese paolo ma le presenze vanno bene devo dire che ancora diversi turisti ci sono e speriamo che continui così anche se sembra che la prossima settimana il tempo sia poco favorevole però siamo fiduciosi che ancora si possa continuare per un bel periodo la stagione insomma senti toglici una curiosità la vostra stagione durerà fino a settembre speriamo il più lungo possibile ma dopo nei mesi autunnali nei mesi invernali un bagnino cosa fa io veramente allora dunque la stagione la stagione la faccio tutti gli anni da 40 anni sono un bagnino che ha un'attività con tutta la famiglia gestione familiare da 40 anni e il lavoro mio principale però sono inferniere lavoro all'ospedale di senigallia quindi c'hai una duplice funzione quindi d'inverno ti dedichi alla cura degli ammalati d'estate invece curi un po i vacanzieri e li curi con i vacanzieri con tutti i tuoi servizi no con tutti i tuoi servizi esatto allora oltre agli ombrelloni che cosa proponi ai tuoi clienti paolo ma dunque noi abbiamo insomma un area giochi per i bambini abbiamo il pedalo abbiamo canoe abbiamo il pattino a remi e poi quest'anno abbiamo introdotto un angolo uno spazio diciamo per per una piccola libreria perché vogliamo che la gente che venga al mare sia rilassata il più possibile con la lettura di un bel libro anche per bambini quindi abbiamo organizzato quest'area diciamo proprio per favorire questa questa iniziativa che poi è eccola è dietro di me è un piccolo spazio per incentivare un po la lettura al mare invece di stare sempre su sul telefonino abbiamo abbiamo introdotto questa questa iniziativa diciamo bellissimo dunque riposo divertimento ma avete anche una funzione didattica ci sono mamme che vi chiedono di imparare nota a nuotare ai loro bambini ma veramente poco ci capita poco anche perché i bambini già arrivano iniziano d'inverno vanno vanno in piscina quindi raramente ci chiedono di ci chiedono questa questa attività quindi sono già sono un po cambiate sono già esperti insomma i bambini che vengono comunque ci vuole sempre la massima la massima attenzione perché ci sono i bambini imparano presto i bambini però ci sono ancora degli adulti che non avendo imparato a nuotare da bambini da adulti è ancora più difficile poi riuscire a stare a galla in sicurezza bene bene paolo esatto ti auguriamo ancora un buon weekend speriamo che la stagione grazie si allunghi si allunghi fino alla fine del prossimo mese e quindi tutti noi possiamo tranquillamente godere di questo bel mare grazie e arrivederci grazie a voi buona giornata apriamo il giornale oggi sul corriere adriatico vediamo la pagina di fano che è dedicata alla piscina e dal mare passiamo alla piscina la pace la nuova piscina che la fondazione carifano ha realizzato nei pressi dell'ariporto un bellissimo impianto con addirittura tre vasche abbiamo quella diciamo degli agonisti da 25 metri poi abbiamo una più piccola per i bambini e abbiamo anche una più basca diciamo così per la riabilitazione assegnata alla gestione della piscina è stata assegnata a quel gruppo a quella società che aveva proposto un progetto con il project financing ovvero con una possibilità di incrementare gli investimenti della fondazione carifano con un finanziamento proprio un finanziamento che ha reso ancora più efficienti i servizi predisposti dalla piscina e parla a questo proposito andrea ricci che è il presidente della società fanon fortune noto che insieme alla società ferrarese pool 4.0 specializzata nella gestione della piscina ha vinto la gestione per quanto riguarda l'appalto c'è stata subito una bella notizia la piscina aprirà nel mese di ottobre al momento nessun altro si è fatto avanti per la gestione di questo prestigioso impianto che è dotato ad un servizio tecnologico all'avanguardia nei sotterrani della piscina abbiamo veramente una centrale termica una centrale idraulica all'altezza dei più moderni sistemi appunto di alimentazione delle vasche prima di perfezionare l'iter necessario però occorre portare a piena conclusione i lavori superando anche qualche complicazione che si è presentata in direttura d'arrivo beh i problemi poi non finiscono mai e allora mentre la fanon fortune si occuperà della gestione proprio delle vasche la pool 4.0 si occuperà più strettamente della questione amministrativa assumendo inizialmente anche la direzione e la presa in carico della componente impiantistica quindi da una parte abbiamo una gestione tecnica dall'altra invece abbiamo una gestione di carattere agonistico sportivo riabilitativo una bella iniziativa questa molto molto attesa da tutta Fano e anche dai centri circostanti perché questo è un impianto veramente che qualifica il nuoto fanese invece a bellocchi a bellocchi ci si lamenta ci si lamenta per il degrado del paese del centro della frazione diciamo meglio bellocchi è assunto alla ribalta della cronaca in questi giorni per quanto riguarda il paese dei bellocchi una bellissima manifestazione che è stata lodata da tutti ed è stata lodata anche dalle forze di opposizione del comune di Fano da fratelli d'italia abbiamo in questo articolo una dichiarazione di giuseppe pierpaoli che rende merito appunto al paese dei balocchi di aver nobilitato bellocchi ma poi quando si spengono i riflettori quando finisce la manifestazione che cosa accade accade dice pierpaoli che bellocchi rientra nel dimenticatoio e ci sono tanti problemi da risolvere ovvero vediamo piazza bambini del mondo dove si svolge appunto l'evento ha gli arredi e i giochi come descritti come vecchi e pericolosi ogni volta che piove il parco si trasforma in un lago non ci sono fogne così l'acqua ristagna per giorni e si infiltra anche nelle fondamenta delle case circostanti e poi il marciapiede previsto non è mai stato realizzato l'asfalto è malmesso i ciclisti sono a rischio caduta tutte le strade attorno al paese dei balocchi sono ammalorate non essendo curate da anni e beh questa è una evidenza che fratelli d'italia fa nei confronti dell'amministrazione comunale invitandola ad intervenire al più presto in questa frazione e protestano anche i residenti di fano sud per quanto riguarda le dichiarazioni che il sindaco di fano ha evidenziato per la realizzazione di una infrastruttura particolarmente richiesta quella della complanare della statale adriatica sud una statale molto molto pericolosa che nemmeno l'autovelox sembra aver soddisfatto i residenti e averli tutelati pienamente anche se ovviamente l'autovelox ha ridotto notevolmente la velocità dei veicoli che percorrono quei rettilini proprio a acceleratore calzato al massimo i residenti ormai allora sorpassano il comune e puntano sulla regione Marche dopo una risposta definita deludente dal sindaco e allora fanno riferimento a chi? All'assessore alle infrastrutture della regione Marche Francesco Baldelli che ormai è rimasta l'ultima Tule, l'ultima spiaggia per quanto riguarda la realizzazione di questa importante infrastruttura la via di mezzo dovrebbe così supplire alla pericolosità che ancora con natura che ancora caratterizza la statale adriatica sud e vedremo come andrà a finire. Ed ora passiamo a Fossombrone. A Fossombrone c'è una bella manifestazione un ritrovo giovanile al santuario all'ombra della grande croce questa croce che caratterizza il convento dei Capucini sovrastante sul colle posto sulla sommità del colle sovrastante Fossombrone. Dalle 19 di oggi al santuario del Beato Benedetto sul colle dei Santi ci sarà un appuntamento con il pianista sul Maggiolone e con il concerto esperenziale di pianoforte, violoncello e alberi grazie alla tecnologia Plant Splay di Edoardo Taori e Federica Zizzari che hanno realizzato un convertitore al bioritmo che trasforma la fisiologia attività dei vegetali in musica. Veramente questo è un sistema veramente complesso tra natura e tecnica, tra natura e tecnologia ebbene anche il verde, anche l'ambiente può essere evidenziato, colorato, manipolato appunto dallo sviluppo della tecnologia umana e sarà una bella iniziativa da andare ad ascoltare e vedere. Passiamo a Cantiano. A Cantiano abbiamo una dichiarazione del sindaco Alessandro Piccini il quale ha notato come lo Stato ha messo a disposizione 30 milioni per foraggiare le gestioni degli impianti sciistici sul Monte Catria e sul Monte Nerone. Ebbene, dice il sindaco Piccini, perché dare questi soldi a una gestione, ad una attività che è a rischio? Perché sappiamo benissimo che nei nostri monti non è che nevica tanto, se nevica nevica pochissimo e questi impianti rimangono aperti in un periodo limitato. Abbiamo invece tante altre realtà che si intonano maggiormente con l'ambiente. Lì l'ambiente ormai è molto molto cambiato, grazie ai cambiamenti climatici, dato anche alla così rarità di avere delle precipitazioni nevose. Invece le attività sportive che si intonano con l'ambiente sono quelle che magari incentivano, promuovono in modo migliore il nostro territorio e quei soldi dovrebbero essere dirottati in quest'altra situazione, in quest'altra attività. 30 milioni per gli sci si investa sulla sostenibilità, è il parere appunto del sindaco Piccini. Vediamo ora Senigallia. Città di Senigallia, un ricorso bisse, ma stavolta non c'è compattezza. Ebbene, il Consiglio di Stato sta per decidere sulla sospensiva del commissario Canafoglia. Interviene Giuliani del Partito Democratico. Anzi, non interviene perché lei si sfila da tutti coloro che hanno presentato questo ricorso. Diciamo meglio. È stato presentato un secondo ricorso al Presidente della Repubblica per revocare l'incarico al commissario straordinario della Fondazione Città di Senigallia, ma questa volta non c'è compattezza. Infatti dal gruppo si è sfilata la consigliera del PD, Ludovica Giuliani, per non compromettere il futuro della struttura. Il verdetto appunto del Consiglio è atteso per il 30 agosto prossimo, quindi tra pochissimi giorni. Vediamo anche un articolo importante che viene pubblicato sulla prima pagina del Corriere Adriatico, prima pagina interna. Si parla della strada della Contessa. Guardate lo stato dei lavori. Qui abbiamo una infrastruttura con cemento e ferri che ancora è allo stato grezzo. I lavori dovrebbero essere conclusi entro l'anno. Si parla di novembre e dicembre. Comunque i danni già sono stati fatti. Strada interrotta, Contessa decaduta, noi isolati da tutti. Ebbene il Corriere ha raccolto le dichiarazioni dei ristoratori, degli albergatori, dei coloro che gestiscono gli impianti di carburanti, i quali ovviamente sono rimasti a secco perché il traffico si è ridotto in maniera drastica, circa il 90%. La statale tra le due regioni è chiusa per lavori da aprile, falciato il turismo dall'Umbria, flessioni dal 30 al 70%. E non solo le attività che persistono nei pressi di Cantiano e appunto nelle vicinanze del Bivio per la Contessa, ma anche per quanto riguarda le località della riviera, delle spiagge, perché poi i turisti dell'Umbria hanno dirottato verso la Valfabbrica e quindi verso le Marche Centrali o le Marche del Sud. Parla un bagnino, quest'estate a Fano non si sono viste le presenze dell'interno e ovviamente la maggior parte dei suoi clienti provenivano dall'Umbria. Uno chef che gestisce un ristorante, tempi lunghi per arrivare da noi, i vacanzieri rinunciano e così via. Insomma, commenti veramente purtroppo negativi, intanto i lavori dovevano essere fatti perché poi quando si ammalorano viadotti oppure strade succedono incidenti e quindi la sicurezza è la prima cosa, ma ovviamente i danni ci sono stati. E allora diamo un'occhiata alla pagina di Pesaro in apertura, si parla del cavalcavia dei Capuccini. Per il cavalcaferrovia lavori anche di notte, però rispetteremo i tempi. Sembra che si vada per le lunghe per i lavori del cavalcavia. In realtà la ditta che sta eseguendo questi lavori si è presa qualche giorno di ferie, ma i lavori riprenderanno subito e quindi siamo in sintonia con il cronoprogramma. Lo ha dichiarato, lo ha rassicurato l'assessore Pozzi. Vediamo qual è la sintesi di questo intervento. L'iter dei lavori ha costato 3 milioni. 3 milioni sono stati stanziati per la manutenzione straordinaria del cavalcaferrovia intestato all'ex sindaco De Sabata. Il cantiere è partito in primavera. La conclusione dei lavori dovrebbe essere, dopo 313 giorni, 745 mila euro sono stati assegnati per la riqualificazione del sottopasso dei Capuccini. Dovrà essere terminato per marzo 2024. Giriamo ancora la pagina e parliamo ancora della discarica di riceci esposto sull'operazione Aurora. La ditta che doveva essere associata per la realizzazione di questo grande impianto che è stato contestato un po' da tutti. Tedeschini afferma che non ci sono reati. Tedeschini è la procuratrice della Repubblica di Pesaro, Urbino, che ha archiviato tutti gli esposti sulla discarica di riceci. Vediamo un po' le tappe di questa lunga vicenda. È cominciata nell'ottobre dell'anno scorso. La società Aurora opziona i terreni di riceci e propone una collaborazione con Marche Multiservizi. Nelle dicembre Marche Multiservizi decide di acquisire in tre fasi Aurora per 25 milioni di euro e ne compra il 40%. Nell'aprile di quest'anno la provincia pubblica il progetto di Aurora per la discarica, ma a luglio, dopo le proteste, Marche Multiservizi congela il sito di riceci. E ancora questa situazione continua a destare polemiche. C'è stata una conferenza stampa recentemente di tre ex amministratori, Baldelli, Carnaroli e Busca, per realizzare una società di scopo che possa gestire sia la raccolta dei rifiuti che il sistema idrico. Pesarocina, la via della seta per rinnovare il gemellaggio, economia e turismo, comune e CNA, ricevono la delegazione di Queen One Gdao. È la località appunto con cui Pesaro ha stabilito un ponte privilegiato. E purtroppo abbiamo un lutto, un lutto che fa piangere il cuore. È morta una ragazza di 19 anni, un tumore che non perdona dopo una lunga malattia. Si vedeva lei stessa infermiera per aiutare gli altri. Ebbene, il Corriere Adriatico pubblica un ricordo commosso di Don Paolini, che ha celebrato i funerali, il dolore di Borgo, la località di residenza. Alle 10.30 di oggi l'addio al Parco dei Tigli. Una bella e sorridente immagine di Alice Fraternali. Guardate che bella ragazza, purtroppo è scomparsa. Alice non c'è più. Vediamo il resto del Carlino. Il resto del Carlino apre la pagina di Fano con nuove proteste in merito alla Fiera di San Bartolomeo. Oggi è l'ultimo giorno della Fiera di San Bartolomeo. La battaglia di Viale Dante Alighieri, che quest'anno è stata esclusa dall'itinerario della Fiera Affari Azzerati. E anche qui protestano gli operatori economici, protestano i baristi, protestano i ristoratori, protestano i negozianti. Coloro che non hanno più l'attrazione della Fiera, che pur occupando i due lati del Viale, anzi un lato del Viale, quella volta si passava in questo modo, dagli anni scorsi, e ora sono rimasti a secco. Tutti i loro affari che si facevano in questi tre giorni, dove i clienti si moltiplicavano, tanto che un operatore ha detto che in questi tre giorni riusciva a pagare l'affitto del suo locale per i prossimi tre mesi. Adesso quindi tutto questo è svanito. È svanito in favore invece di un più lungo itinerario che si svolge su Viale Adriatico, in Sassonia, fino alla spiaggia del Lido. La scelta di spostare la fiera fa scoppiare un pandemonio. Commercianti infuriati con il Comune, grazie per l'ennesimo bidone. Io ho perso tanti, tanti soldi, dicono diversi operatori di Viale Dante Alighieri. La Fondazione Carifano stanzia 70 mila euro per i poveri. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. È un bando che la Fondazione Carifano ha pubblicato per così incentivare l'attività delle associazioni, senza scopo di lucro, che si dedicano appunto ad aiutare gli altri. La scadenza di questo bando è fissata per le ore 12 del 15 settembre prossimo. Che fine ha fatto la nuova piscina? Ebbene, l'abbiamo visto prima sul Corriere Adriatico, abbiamo visto che la gestione è stata ormai assegnata, che l'apertura sarà verso ottobre, verso la fine di settembre, il prossimo mese di ottobre. Comunque, 5 Stelle, chiedono l'UMI, il Presidente della Fondazione, dice siamo al 99,9% di quello che ci compete per arrivare alla consegna. Ancora piccolissimi lavori di rifinitura per consegnare un impianto, un impianto, come abbiamo detto, veramente tecnologico, in linea con tutte le conquiste dello sviluppo per i prossimi giorni. Porto, le richieste dei pescatori, dragaggio e un'isola ecologica per quanto riguarda il porto di Fano. Un'ultima notizia prima di chiudere. A San Lorenzo si gira al ritmo della pizza, la pizza in piazza, una delle manifestazioni che attira sempre più gente, mentre per quanto riguarda Urbino si parla della festa degli Aquiloni. E Urbino torna a volare, torna a sognare per un sguardo verso il cielo dove volteggeranno tra poco tanti, tanti colori e tanti, tanti desideri. E questo per il momento è tutto. Massimo Foghetti vi saluta, vi augura un buon weekend e noi ci risentiamo lunedì alle ore 7. Grazie per l'ascolto. A risentirci.